Perché siete qui? C'è scusi, l'abbiamo vista su YouTube. Certo, voi e altre 11.486.000 persone. Ho 700 visualizzazioni in più del bambino che ride mentre fa la tappa. Ma abbiamo bisogno delle sue conoscenze, signor Goodman. Perchè? Credo siano tornati. Tras lei che non è collegato al lago Vittoria. I piranha devono essere passati per dei condotti da acqua sotterrare. Studio questa specie di piranha da quasi un anno. Guardami, lo so fare anch'io. Ehi, ho una cosa interessante per voi. L'aiuto? Sì, sì, vieni. Ok, questa è una lastra d'acciaio zincato. E il materiale di cui sono fatte le intubature. Ecco, fatto. E ora diamogli un incentivo. Ehi, eccolo qua. Allora, no, 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 no. Questa mattina ho finito i cuccioli, ok? Attenzione, perché questo è un pesce pieno di risorse, guardate. Andiamo. Forza, 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 forza. Visto, sente l'odore della preda? Oh porca puttana Barry sei impazzito Poteva staccarti la mano La rana ma innocua